La partita del rilancio La partita del rilancio La partita del rilancio 0-2 e Andrea in ginocchio Con gli avversari abili a sfruttare Le lacune difensive andriesi Ma al sesantesimo arriva la reazione Dei padroni di casa Punizione da fuori aria Il sinistro di Curce La palla finisce in rete Per il gol che riaccende Le speranze della Fidelis Al settantesimo Contropiede letale del Fondi Nolè parte dalla sua metà campo Serve Lazzari sulla destra La conclusione deviata da Mauro Antonio Che smorza il pallone Ma arriva ancora Nolè più veloci di tutti Che mette dentro il gol Dell'1-3 Secondo tempo da dimenticare Per i bianco-azzurri Che nel finale Non riescono più A creare pericoli Triplice Fischio E Fidelis Che ora si piazza L'ultimo posto in classifica